ha delle convinzioni, quindi è un continuo aver voglia di crescere e di pensare di non essere mai arrivati ad una confusione. Io adesso lascio la parola a Deji, però vi esorto davvero a essere, a partecipare, a non avere timore, perché è così che davvero si riesce a creare un clima di partecipazione, un grazie a tutti.